La situazione che sta vivendo l'US Agropoli non è una delle più rosee. Le difficoltà si susseguono sia sul campo che in ambito societario, visto l'ultimo posto occupato in classifica nel girone HD Serie D e i grossi debiti in cui si trovano le casse del club. Situazioni dovute all'accelerata gestione del padron bisogno. Ormai i vecchi fasti sono sempre più lontani. Il collettivo tifosi agropolesi è insorto, stanco di questa pessima situazione, la più difficile della storia del club agropolese. E dopo l'ostriscione degli scorsi giorni che incitava il proprietario della squadra, Stefano Bisogno, ad abbandonare la direzione dell'Agropoli, arriva anche un comunicato a nome di tutti i tifosi. A difesa della nostra storia, si apre così il durissimo comunicato del collettivo, in cui si dichiarano stanchi del trattamento riservato alla nostra maglia, umiliato ormai su tutti i campi del sud Italia. Bisogno viene accusato di essere l'artefice del completo fallimento dell'Agropoli e invitato a consegnare il club al comune. Siamo finiti con una squadra di ragazzini, che oltre a non essere pagati vengono anche minacciati. Senza dimenticare l'alone del calcio scommesse che legge sulla nostra amata Agropoli. Con queste parole, i tifosi dicono bassa allo scempio che va avanti d'agosto, proprio mentre il padron Bisogno potrebbe accettare di tornare il club al comune di Agropoli, in cambio del 20% del denaro investito nella sua gestione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.